devi solo invertire sulle impostazioni da semi assistito la statistica sul possesso palla negli ultimi 15 minuti evidenzia la supremazia schiacciante dei football friends riescono a liberarsi spesso per andare alla conclusione tira e vai e si così bianco il ho messo un buco fatto bene so che a me sembra che ho scritto che big che potrebbe fare la msr perché non bello bella volo secondo io questo è un grandissimo questo è un grandissimo questo è veramente bello perché la calcio d'angolo segnare così e tanta roba stanno mostrando parecchie difficoltà di parti in postazione applicato c'è e vabbè insegna proprio lui ebbè bello comunque anche bel passaggio da roma potenzio che è cambiato racconto per due reti a zero è diverso risoluzione da prende subito è avanzata la con parte di secondi alla messa in area si fa bene va bene bene così bene così estrella estrella che è alto con i brainwitch ormai spaccalo si si eh io non c'ho i soldi